Passione, brivido, velocità, l'appuntamento di oggi amici è con il meglio della produzione automobilistica mondiale concentrato da Golden Garage, un'azienda giovane ma già di grande successo guidata da un grande professionista Dennis Defina, ciao ben ritrovato Ciao Panno, non ben ritrovato a te, non ben ritrovato a tutti Ed è difficile se non impossibile trovare concentrato in un unico showroom, quello di Strada Carignano 54 a Moncaglieri il meglio del panorama sia automobilistico che motociclistico tutte auto e moto di stile, fascino, eleganza, le cosiddette supercar ma anche la storia, le auto d'epoca unite naturalmente alle auto di segmento medio, le citycar, anche le auto compatte un'azienda a 360 gradi, una delle più complete sul mercato Ti ringrazio, è vero, cerchiamo di essere il più completi possibili per riuscire a soddisfare ogni vostra esigenza nell'eventualità voleste finanziare, da noi i finanziamenti hanno dei costi veramente molto molto agevolati e per quanto riguarda la permuta con auto e con moto siamo disponibili a fare anche il contrario quindi voleste acquistare un'auto e darci indietro la vostra moto, ben volentieri si può fare anche questo Per quanto riguarda le autovetture abbiamo anche una vasta esposizione di veicoli del gruppo FCA nuovi e chilometri zero per soddisfare anche le esigenze di chi volesse un'auto da città o un'auto da famiglia Bene, direi che è giunto il momento, anche se il tempo a disposizione è sempre pochissimo di cedere il microfono a Denis per portarci a spasso nella sua azienda ed emozionarci con le proposte firmate Golden Garage, state con noi Prima di presentare le motociclette volevo ricordare che Golden Garage spazia veramente a 360 gradi sugli acquisti e sulle vendite abbiamo uno splendido go-kart KGM un prodotto 125 in condizioni pari al nuovo ha una cifra formidabile ricordo, tutto ciò che ci proponete, auto o moto, saremo disponibili a valutarvele con i migliori prezzi sul mercato Da Golden Garage si può trovare molto altro, abbiamo motociclette naked, motociclette customizzate diversi custom giapponesi e americani con Harley abbiamo veramente un bel da dire perché ci sono moltissimi prodotti a vostra disposizione di diverse caratteristiche e diverse cilindrate abbiamo a vostra disposizione anche degli scooter, delle vespe come queste due splendide piaggio una 50 e una 250 ha delle cifre formidabili un introvabile C1 della BMW 125 quindi guidabile senza patente dedicata alle moto ma con la semplice patente B legata all'auto e per terminare la carrellata due prodotti introvabili sul mercato due splendidi esemplari di Harlan Davison da venire a scoprire in sede anche questi a due cifre formidabili come anticipato in apertura moltissime supercar qui da Golden Garage una vasta esposizione a vostra disposizione tantissime opportunità alle cifre migliori sul mercato e con l'opportunità sempre come dicevamo in apertura di poterle permutare con le vostre auto o le vostre moto anche se di valore superiore l'apertura è proprio dedicata a una splendida Audi R8 Cabrio 5.2 motorizzata V10 si parla di una vettura con pochissimi chilometri ufficiale taglia andata stesse prerogative per questa fantastica coupé motorizzata però 4.2 V8 auto introvabili sul mercato soprattutto per le condizioni Ferrari ci dà l'opportunità di offrirvi una vasta scelta di prodotti abbiamo dei prodotti di ultima generazione come un 4.5.8 Spider uno splendido 4.30 con targa personalizzata un mondial in condizioni introvabili tantissimi prodotti veramente da potervi offrire anche per Porsche possiamo dire la nostra abbiamo davvero tantissimi modelli a partire dalle ultime generazioni fino a scendere ai primi modelli anni 70 tantissimi prodotti a vostra disposizione taglia andati garantiti ovviamente con chilometri certificati i prodotti più introvabili sia nei colori che nelle motorizzazioni e ricordo anche qua siamo ben disponibili per mutare più di un oggetto sia auto che moto anche veicoli di interesse storico continuiamo con una carrellata su prodotti particolari questa volta si cambia totalmente genere parliamo di Abarth una fantastica 500 km 0 versione pista da venire a scoprire perché il prezzo è interessantissimo ancora più particolare una fantastica SS anno 2010 pochissimi chilometri è da venire a scoprire in virtù di un fantastico kit TD04 da oltre 200 cavalli si continua con casa tedesca parliamo di Audi parliamo di una fantastica RS3 prodotto 2015 super accessoriata super prezzo anche qua ricordo disponibile a ritirare il vostro usato auto moto che sia continuiamo su un quattro ruote motrici sempre Audi sempre S si parla di un S3 265 cavalli unico proprietario rigorosamente taglia andate in Audi totalmente originale lo sottolineo perché di solito per trovarli originali bisogna faticare un po' di più passiamo a BMW passiamo a un fantastico 120 diesel un prodotto introvabile in questo allestimento M Performance ovviamente assolutamente originale si parla di un prodotto diesel da 184 cavalli disponibile a qualsiasi prova disponibile al permuta e finanziabile ci spostiamo su Golf un prodotto unico proprietario 60.000 km tre porte nell'allestimento GTD parliamo di un prodotto unico proprietario assolutamente da venire a scoprire in sede più particolare un Alfa 147 GTA anche questo ormai sta diventando introvabile sul mercato dell'usato qui da Golden Garage ne abbiamo due disponibili una grigia e una bianco perla in pronta consegna ancora prodotti particolari un fantastico Mercedes SL particolarissimo per i soli 54.000 km documentati con cambio automatico si parla di Rolls Royce volete un'auto da cerimonia volete un'auto da fare un investimento questa può essere l'auto giusta assolutamente rivista in ogni dettaglio con oltre 20.000 euro di ripristino spesi negli ultimi dieci anni vettura da girare la chiave e andare in vacanza veramente pronta per qualsiasi esigenza passiamo a un prodotto particolarissimo una 4 più 3 una Corvette cambio molto particolare condizioni introvabili per l'annata che rispecchia veramente interessante anche il prezzo anche questa permutabile col vostro usato rimaniamo su Cabrio un fantastico SLK ha una cifra economicissima anno 2005 in condizioni pari al nuovo altrettanto pari al nuovo ma ancora più introvabile sul mercato vista la motorizzazione 3 e 2 da 343 cavalli uno Z4M Roadster da venire a scoprire in sede anche questo ovviamente interamente tagliandato in casa madre con chilometri documentati stessa prerogativa per questo Maserati 4 e 2 si parla di un cambio corsa coupé cambio F1 assolutamente impeccabile e ora la carrellata continua su qualche veicolo più comune ma altrettanto in ottime condizioni si parla di Mercedes si parla di classe E nella versione coupé un prodotto unico proprietario con 70.000 km passiamo a BMW un 435 biturbo si parla di un diesel da 313 cavalli con motorizzazione 3.000 xDrive e passiamo a un 2.000 M Sport un prodotto dell'anno 2015 con soli 40.000 km assolutamente full optional assolutamente pari al nuovo e anche qua ricordo permutabile col vostro usato la carrellata termina su un introvabile M1 si parla di una vettura dove ce ne sono solamente 6 o 7 esemplari in vendita in Italia 30.000 sono i chilometri le condizioni sono pari al nuovo ed è disponibile a qualsiasi prova Golden Garage è sinonimo di passione di qualità abbiamo veramente tutti i prodotti più particolari e più introvabili sul mercato dalle migliori ammiraglie Berlina ai migliori SUV parliamo di Range Rover parliamo di Cayenne un esempio è questo fantastico Cayenne Diesel nella motorizzazione 4.1 S parliamo di MLMG introvabile sul mercato italiano abbiamo tanti altri prodotti a vostra disposizione come ricordavo prima Golden Garage ha anche diversi tipi di vetture da famiglia vetture da utilizzo quotidiano SUV di fascia più piccola abbiamo un fantastico X4 2017 M Sport ovviamente ufficiale X3, X1 una fantastica Mini nella motorizzazione 1.6 GPL una Paceman introvabile un fuoristrada particolarissimo americano si parla di GMC due prodotti più classici per la famiglia per le ferie un prezzo strepitoso per questi due Volvo finanziabili sui quali ritiriamo il vostro usato lo paghiamo al meglio ritiriamo anche l'usato di valore superiore e ritiriamo la vostra moto parlando di moto ricordiamo una vasta esposizione di Arlen Davison e parlando di questo fantastico Jeepino un CJ3 in condizioni da vetrina con un ripristino veramente maniacale appena eseguito su questo veicolo ricordo che abbiamo tanti prodotti particolari ed è poca a vostra disposizione bene amici il tempo di esposizione per oggi è terminato da Golden Garage i brand più plasonati del mercato automobilistico lo vedete raffigurato anche in questi due ultimi boli di inquadrati tutto questo è molto di più da Golden Garage ricordiamo l'indirizzo siamo in strada Carignano a 54 a Moncalieri vi aspettiamo davvero numerosi e per qualsiasi esigenza non esitate a contattarci grazie Dennis per la tua competenza e ospitalità grazie a te e un saluto a tutti e grazie a voi per averci seguito a Golden Garage grazie a tutti